La mia ricerca genealogica mi ha permesso di rintracciare la famiglia Burns fino al 1643. C'è sempre stato un patriarca a guidare la famiglia nei momenti belli e brutti. Perciò ti chiedo, Greg, se io mancassi, sei pronto a essere... il Don Fotter. Il Don Fotter. È un atteggiamento, Greg. È il modo in cui ti comporti che fa capire agli altri che il capo dei capi sei tu. Harry, ti mangi la tua lasagna? Ha detto di avere un po' di nausetta. Harry, sono tuo pagio e ti sto chiedendo di mangiare la lasagna. Grazie, figliolo. Muoio dalla voglia di vedere quei piccoli Fotter. Greg, io e Dina arriveremo approssimativamente fra 18 secondi. Salve, Jack. Greg. Blu, 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 ragazzi! È l'ora del tacchino! Jack, fa lei gli onori? Sei tu il trinciatacchino ora. Grazie, Jack. È un onore. Non sono sicuro che tu abbia i requisiti del Don Fotter. Ti tengo d'occhio. Ho gli occhi anch'io, perciò... io terrò d'occhio lei... che tiene d'occhio me. Abbiamo questo appuntamento fin dall'inizio, Greg. Se vuole ballare, nonnetto, balliamo. Ci sono molte dinamiche familiari in gioco qui. Vi presento i nostri. Jack! Jack! fuori dalla vasca delle palle! Fuori dalla vasca delle palle! Fuori! Emily Love!